I commentatori reali hanno affermato che il duca del Sussex voleva cambiare le cose all'interno dei ranghi più alti della famiglia reale e prima di dimettersi e trasferirsi a Los Angelesi il principe Harry è diventato frustrato dal suo ruolo nella famiglia reale e dai limiti della sua posizione prima di incontrare Meghan Markle, hanno affermato i commentatori. Mentre molti presumono che le difficoltà del duca con la sua famiglia siano iniziate dopo che Meghan si è unita a The Firm, l'esperta Camilla Tomaini afferma che le lotte sono iniziate molto prima che si innamorasse dell'attrice americana. Parlando nel documentario ITV Harry e William. Cosa è andato storto? Suggerì che Harry potesse avere una mentalità da risparmio dell'erede, che avrebbe potuto spingerlo a voler sfruttare al meglio la sua influenza e fare un buon lavoro. Ha suggerito che Harry potrebbe aver voluto rendere importante la sua vita prima che i figli di William, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, lo spingessero più in basso nell'ordine gerarchico. Ha aggiunto. Si è parlato molto, anche prima che Meghan fosse sulla scena, di Harry che diceva. Perché non posso farlo? Punto. Tomaini ha anche suggerito che Harry volesse scuotere le cose. Chiedendo. Perché non possiamo farlo in modo un po' diverso? Ha affermato il suo atteggiamento di voler fare le cose più velocemente quando ha incontrato Meghan Markle, che Tomaini ha descritto come avergli dato carburante per razzi. Il programma ha esplorato la relazione tesa tra Harry e suo fratello maggiore, pochi giorni dopo che si erano uniti per svelare una splendida statua della principessa Diana a Kensington Palace. In particolare. Il documentario ha esplorato il rapporto di Harry sia con suo fratello che con sua cognata, la duchessa di Cambridge. L'editore reale di Vanity Fair Katie Nicole ha discusso delle loro vite prima che Harry e Meghan volassero a Los Angeles dopo aver preso la decisione di dimettersi da reali senior. Ha detto. Vivevano insieme. Anche se dall'altra parte del cortile. Lavoravano insieme nello stesso ufficio. Stavano facendo lo stesso lavoro di beneficenza. Non potevi ottenere un'unità più compatta.